Ed ora la palla a volo, la Leosciusa affronta domenica la trasferta di Cisterna sul campo della top volley dell'ex tecnico giallo blu Lorenzo Tubertini. Andrea Gianni soddisfatto dei progressi della squadra non si pone, limiti di classifica. L'ho intervistato per noi Filippo Marelli. Iniziano delle partite con un livello superiore, quindi ci confronteremo, testeremo le migliorie che abbiamo apportato al sistema individuale sapendo che sono partite che saranno importanti per la classifica finale. Poi ci sono dei sconti diretti importanti, come di questi, quello con Civitanova. Però siamo cosci di quello che dobbiamo fare, siamo consapevoli. Quindi stiamo lavorando tanto in palestra, ma non per il tempo speso, per la qualità che abbiamo in palestra. E credo, insomma, che posso dire che un po' di gap l'abbiamo colmato. Poi vediamo se è tutto. La prima di questa serie di partite è contro Latina. Ovviamente l'obiettivo sono i tre punti e l'obiettivo, il sogno, è quello del secondo posto. Latina è una squadra che è vero che è dietro in classifica, però è una squadra che gioca. ha messo in difficoltà tutte le squadre, quindi sarà una partita non facile, non semplice. L'obiettivo è quello di arrivare più avanti possibile in questa classifica, senza porci, secondo me, dei limiti. Nel senso che è vero che Civitanova è molto distante, però per la matematica non è raggiungibile.